La strategia vincente è stata quella di considerare fin dagli inizi gli scopi per cui un consorzio era nato e cioè il fatto di garantire la correttezza del trattamento dei pneumatici a fine vita nell'interesse del cittadino che quando compra un pneumatico versa un contributo affinché quello che lascia a terra venga correttamente trattato e quindi nell'interesse dell'intero paese sul fronte ambientale. Nello stesso tempo cercare di originare da questo rifiuto materia dei primi e secondi per poter affrontare il tema dell'economia circolare che richiede di utilizzare più volte i materiali nel ciclo di vita dei vari prodotti. Da un punto di vista di apporto al paese certamente in questo caso siamo riusciti a garantire la maggioranza degli obiettivi che ci venivano assegnati gestendo ogni anno quantità sempre maggiori rispetto a quelle che la legge ha fissato. Quindi direi che abbiamo raggiunto i traguardi posti, li abbiamo anche superati e abbiamo confermato la monta della strategia.